La Proloco di Ardese organizza sabato sera alle 20.30 la prima serata della memoria in cui sarà proposta un'orazione civile dal titolo Vajont, tratta dal testo di Marco Paolini e Gabriele Vacis a cura di Omar Rottoli. Sentiamo questa intervista al presidente della Proloco, Simone Bonetti. Come Proloco ci siamo studiati quelli che possono essere delle serate legate a un discorso culturale. Queste serate avranno un nome particolare, si chiameranno serate della memoria. Adesso non sappiamo ancora se saranno con cadenza annuale oppure ogni sei mesi o altre cadenze. Il nostro discorso riguarda soprattutto cercare di portare un po' di cultura nella nostra popolazione. Stiamo cercando di organizzare serate che vadano a riprendere quelli che sono fatti o comunque avvenimenti successi sia a livello comunale, quindi ad Ardesio, oppure a livello nazionale. Con la prima serata della memoria, che sarà sabato sera alle ore 20 e 30, parleremo della tragedia del Vajont. La tragedia del Vajont è una tragedia che ha colpito l'Italia intera. Sappiamo tutti quello che è successo nel 1963 e abbiamo deciso di organizzare questa serata per così valutare e tracciare ancora un bilancio definitivo di quello che è successo quella fatidica notte ad ottobre. Abbiamo organizzato questa serata in collaborazione con un ragazzo di Bonate Sotto, questo ragazzo si chiama Omar Rottoli, che lui ha ripreso il testo del Paolini e di Vacis, ha ripreso quello che era il loro spettacolo e lo porta al teatro di Ardesio in forma un po' dettagliata, un po' differente e con una mano giovanile. Questo ragazzo l'abbiamo contattato perché lui è molto esperto nel portare questi tipi di narrazione, è un'orazione civile e quindi speriamo di coinvolgere la gente di Ardesio e altri paesi limitrofi a venire a fare una nuova esperienza, una nuova esaminazione di quello che è successo ad ottobre del 1963. Quindi sabato 3 ottobre, ore 20.30, presso il Cineteatro dell'Oratorio di Ardesio, parleremo della tragedia del Vaillant. Grazie. 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 Grazie.